Sì, veramente un connubio perfetto e sono stata così contenta di ospitare questo Giro Donne. Chi? Meglio di me, che sono assessora allo sport Donne. Milena Sebastiani, assessora allo sport e al turismo qui a Porto Sant'Elpidio, una località fantastica, eccellente dal punto di vista turistico, che oggi combina a questo determinante aspetto quello dello sport, in modo particolare lo sport al femminile con il Giro Donne. Sì, sono stata molto felice di ospitare il Giro Donne quando mi è stato proposto, proprio perché assessore donna non potevo che sposare questa idea. Quindi veramente felice la nostra città di ospitare questo evento importante, anche come veicolo turistico, perché sempre più lo sport è collegato al turismo, quindi far scoprire il nostro paesaggio insieme alle nostre eccellenze. e non potevamo... Grazie. 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 Grazie.